Bella ragazzi, qui a Dropix, sono tornato con il mio primo video su Need for Speed Most Wanted un gioco davvero molto bello, però non ho mai seguito a fondo la serie di Need for Speed ci giocavo ogni tanto sulla PSP, però diciamo che su PC mi trovo davvero molto bene sia con il joystick sia con il sito da cui l'ho scaricato ora, ho trovato questa, credo sia la seconda macchina che ti danno cioè non mi giudicate perché, ecco, davvero non so davvero nulla di questo gioco qui c'è il cartellone della EA Sports non sfondare, ok intanto, volevo andare a vedere un attimo con la Easy Drive anzi, per adesso facciamoci un giretto che poi tra l'altro ragazzi, se potreste farmi un favore, ovvero, cioè le derapate non so se si facciano con il freno normale che cazzo è? ok, sfuggiremo alla polizia in live ok, ora corri a nasconderti per non farne individuare buono bollo così, sono sfuggito all'inseguimento comunque, appunto, volevo chiedervi se la derapata si fa con il freno normale oppure con il freno a mano perché io non l'ho ancora capito piano sfuggiremo lì ai, alla pula credo sia questa la derapata con il freno a mano ok, qui andiamoci un attimo per chi non ne sa molto questo qua, sono dei garage in cui vedete, ti riparano la macchina inoltre porca puttana cazzo sono morto o no? sono solo, è semplicemente schiattato non sono schiantato attenzione, qui c'è un c'è un volante mmm bella Bugatti oh mio dio la Bugatti la Bugatti Veyron sia questa no, la Bentley Super Sports che cazzo sto dicendo? vabbè, la Bentley è forte comunque allora senti quanto piotta si, levatevi dalle palle ok no io porco se io porco ho una penna di chi è la penna? mi diverto con page a fare tipo queste battute però ragazzi non vedete cioè quando io faccio una curva non riesco mai a capire perché se io giro bruttissima mossa se io giro purtroppo la macchina continua a girare per tipo un secondo da sola quindi mi trovo leggermente male vi robiamo ok oddio la pula dietro c'ho la pula dietro c'ho la pula dietro pulavatene ok allora vediamo un po' di attivare un qualche una qualche gara porca puttana comunque ragazzi è davvero un bel gioco Need for Speed ve lo consiglio me cioè da torrent con la mia connessione pessima che ho bella pure sotto con la mia connessione pessima che ho mi ci ho messo circa 4 ore per scaricarlo quindi neanche troppo tipo 6 mega e mezzo 6 giga scusate oh un cartellone pubblicitario che figata ho rotto la macchina dunque aspettate un attimo sono già passati 4 minuti porca puttana devo assolutamente uscire da qui speroniamo qualche macchina la madonna puttana speroniamo questa di macchina pure questa cioè poi la musica è proprio la musica pompa davvero sono diventato uno schifo con le terapate la pula la pula piano 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 che c'è la pula ok la pula se n'è andata la polizia saliamo per andare non so dove no cioè non si è fatto niente il guardrail ok va bene allora gare the pumping iron 2 km a 7 e 0 km a 6 4 ok facciamo questa va programma tappa ok prima di tutto però devo andare un attimo a riparare la mia machine eccola qui meno male c'è il papo davanti cazzo però figa cazzo figa ok dai ragazzi 5 minuti bello sto colore di merda oh un'altra ecco cancello abbattuto ok arriva prima per sbloccare marce lunghe ok ragazzi primo marce lunghe te l'ho rinforzato e se arriva terzo non mi danno una sega quindi cerchiamo di arrivare i primi anche se diciamo che è la prima gara che faccio quindi si parte da qui che cazzo semina la pula devo seminare la pula oh cazzo ho capito devo seminare la pula ma dove cazzo la semino qui devo salire cazzo ho tre livelli di priorità dove cazzo devo andare scusate ragazzi ok ci si butta di sotto di qui boom il cartellone della yeksports boom si levati dalle palle eh si guarda che cazzo c'ho oddio no qui è un posto di blocco porca puttana non so davvero cosa fare la mia super oh 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 levatevi mi hanno catturato mi hanno catturato dio per capire quanto sono scarso capito che palle cerchiamo di poter fare un'altra gara provo una gara vera stavolta vediamo un po' che macchina meritano dai spericate arrivò una ragazza in altri due minuti così mi sembrava la bugatti a me c'è la b allora gare aspetta posso modificare anche le gomme ok di serie di serie allora gare pumping iron che cos'è gara sprint imboscata gara sprint sfida la velocità gara circuito ok dritto ragazzi vediamo un po' riusciamo a fare una gara circuito tanto distanza è un chilometro e mezzo neanche tanto piano non voglio distruggermi la macchina si è fatta un cazzo mamma mia si sente proprio da come vibra il controller la potenza delle macchine in need for speed che figata pure mamma mia le le canzoni che hanno messo ok ehi 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 tu che mi giri davanti tu che mi giri davanti sei un burbante sei un birbante sei un burbante ok anzi va arriviamo al punto d'incontro e poi ci salutiamo ok ok ragazzi qui c'è l'evento io vi lascio con la mia macchina mezza distrutta questo qua era il primo episodio della serie su need for speed most wanted chiamiamola serie così qui da dropix è tutto bella